Il P.M. Manzini Le pressioni di Romeo su Berlusconi, l'ex assessore regionale arrestato nell'inchiesta Mamma Santissima, svela in retroscena della candidatura di Scopelliti alla carica di governatore, la regia occulta della componente riservata della cupola regina. Il P.D. Calabrese verso il congresso, il richiamo all'unità del segretario regionale Magorno, la marcia di avvicinamento al congresso fa i conti con i venti di scissione, con un piede fuori Stumpo e Lomoro. Falcone e Borsellino negli scatti del Lanza, il ricordo dei magistrati in una mostra fotografica a Catanzaro, così la più importante agenzia di stampa italiana tramanda alle nuove generazioni il ricordo di due simboli di resistenza civile. Non solo calcio, il weekend riserva impegni probanti per Tonno Callipo e Viola, i giallorossi inseguono i play-off di Superlega, la compagine regina è attesa da una trasferta di fuoco a Rieti. Buonasera da Rossella Galati, benvenuti all'edizione della sera di LAC News 24. Lo sentivate dai nostri titoli, nove condanne e una raffica di assoluzioni, alcune delle quali clamorose al processo Black Money contro il clan Mancuso. Crolla perfino il reato di associazione mafiosa. La sentenza è di questo pomeriggio. Sentiamo. Nove condanne e dieci assoluzioni, alcune delle quali clamorose, come quella del super boss. Pantaleone Lunis Carpunig è detenuto al 41 bis per altri reati. Si conclude così il primo grado del procedimento denominato Black Money, il più importante processo di mafia, in corso davanti al Tribunale di Vibo Valencia, che vedeva imputati alcuni tra gli esponenti di spicco del clan Mancuso di Limbadi. Dopo dieci giorni di Camera di Consiglio, il collegio giudicante, presieduto da Vincenzo Papagno a lateri giudici Giovanna Taricco e Pia Sordetti, ha inflitto la condanna più pesante a Giovanni Mancuso, nove anni di reclusione, a seguire Agostino Papaianni, sette anni e otto mesi, quindi Antonio Mancuso, cinque anni. A Giuseppe Mancuso, figlio del defunto boss Pantaleone alias Vetrinetta, un anno e sei mesi. Considerevolmente ridotte le condanne anche a carico di altri imputati, rispetto a quelle pesantissime invocate dal PM Marisa Manzini. Non ha retto dunque la più pesante accusa di associazione mafiosa, mentre solo per alcuni degli imputati hanno retto le contestazioni inerenti, reati fine di usura, estorsione, dalleggiamento e armi. Tra gli assolti, anche l'imprenditore Antonino Castagna, che aveva subito una lunga carcerazione preventiva e pesanti provvedimenti anche di carattere patrimoniale. E' stata poi riconosciuta l'intervenuta prescrizione dei reati per diversi imputati, tra i quali Nicola Castagna, figlio di Antonino, e Filippo Mondella, da Vibo Valencia, per la CNews24. Grande serenità alla lettura della sentenza, ha manifestato il PM Marisa Manzini, magistrato che ha scritto pagine storiche. Era il suo ultimo processo a Vibo Valencia, l'ha intervistata per noi Cristina Iannuzzi. Se l'aspettava questo esito? E' stato un processo lungo, faticoso e peraltro anche molto tormentato nel suo evolversi. Ora, il Tribunale ha sempre dimostrato grande professionalità. Chiaramente oggi dobbiamo capire la motivazione, aspetteremo di leggere le motivazioni tra 90 giorni e poi ci si regolerà di conseguenza. Questo era il suo ultimo processo a Vibo Valencia? Sì, sì, questo è il mio ultimo processo. Che si prova? No, è lavoro e quindi per carità poi vanno rispettate, come si dice sempre, le sentenze, vanno lette e se ci sono aspetti che non ci convincono vanno poi impugnate. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Una sentenza coraggiosa l'ha invece definita l'avvocato Francesco Sabatino, codifensore del principale imputato del processo clamorosamente assolto. Stiamo parlando del boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni. È una sentenza importante, è una sentenza coraggiosa che ritengo riconosce un lavoro di anni da parte delle difese dove il Tribunale ha preso atto di una serie di elementi dibattimentali che alla fine non hanno consentito di far reggere l'impostazione accusatoria del Pubblico Ministero. Quindi siamo soddisfatti e è un lavoro importante che abbiamo portato a compimento almeno fino alla sentenza di primo grado. Sinceramente speravamo in una sentenza giusta, in una sentenza che applicasse semplicemente le regole del diritto e quindi non c'è sotto questo punto di vista nessuna sorpresa perché eravamo e siamo convinti che determinati elementi non potessero reggere ad un vaglio attento da parte di un Tribunale che è stato, devo dire, attento e scuroloso. Ci sono stati momenti purtroppo di tensione, momenti difficili per le difese, per tutti ma alla fine il nostro lavoro ritengo viene premiato. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E ancora cronaca giudiziaria, svelano scenari politici sorprendenti le dichiarazioni rese alla PM di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo dall'ex assessore regionale Alberto Sarra, arrestato nell'inchiesta Mamma Santissima. Il servizio esclusivo è di Consolato Minniti. Berlusconi che deve scegliere il candidato alle regionali qui in Calabria vira sul medico della madre. Scopelliti va in tilt, ne parla con le intrieri e le intrieri richiama Romeo. C'è lo zampino dell'avvocato ritenuto al vertice della cupola massonico-mafiosa dietro la scelta di candidare Giuseppe Scopelliti a governatore della Calabria. Solo il suo intervento diretto riesce a convincere Silvio Berlusconi che Scopelliti è l'uomo giusto per la poltrona di presidente della Giunta. Siamo nel novembre 2009 e il sindaco di Reggio Calabria è pronto a fare il grande salto. Qualcuno però si mette di traverso. Sul tavolo di Berlusconi arriva un voluminoso dossier riguardante il primo cittadino di Reggio. Il contenuto è esplosivo, a tal punto da indurre l'allora premier a valutare seriamente la candidatura di Bernardo Misaggi che addirittura la annuncia ufficialmente sulla stampa. Poi però accade qualcosa. A spiegarlo al PM Giuseppe Lombardo è un politico che quegli eventi li vive dall'interno, Alberto Sarra. E che cosa succede quando Romero interviene? No, interviene e chiamano, fanno una riunione con Pino Torsi Prato. Fanno una riunione con Pino Torsi Prato perché dice l'intrieri ho bisogno di confrontarvi con le vostre menti raffinatissime. L'incontro avviene e obiettivamente dopo una settimana Berlusconi lo candida. C'è una nuova collaboratrice di giustizia coinvolta in una importante inchiesta per narcotraffico. Adesso parla al PM di Catanzaro e svela il suo terrore per un boss in carrozzina, il padrino di Mileto Pasquale Pititto. Io ho molta paura di loro, nel senso che ho paura del loro gruppo, Pititto, perché Salvatore Pititto diceva sempre che Pasquale Pititto, suo cugino, è molto pericoloso. Oksana Werman, 41 anni, ucraina, collabora con i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Racconta quel che sa. Gli affari del suo uomo, Salvatore Pititto, broker del narcotraffico, ritenuto uno dei componenti del cartello composto dall'endrine Pititto di Mileto, Grillo di San Chelogero, subordinate alla cosca maggiore dei fiarei di San Gregorio di Pona, considerata come vicaria della cosca Mancuso di Limbadi, all'interno della linea gerarchica criminale vibonese. Oksana, che nella sua abitazione di Vagagliardi, a Vibo, è divenuta testimone di trattative e traffici che hanno condotto fino a San Chelogero i signori della droga colombiani, tratteggia il profilo di un uomo che non ha mai visto, ma del quale spiega di sapere abbastanza. Pasquale Pititto, padrino di Mileto, il boss finito in carrozzina dopo un agguato subito nel corso della guerra di mafia che tra gli anni 80 e 90 seminò terrore e morte nell'antica capitale normanna. Salvatore diceva che Pasquale Pititto aveva commesso veramente quegli omicidi. Mi parlava di questi fatti, raccontando che mi deve aver ucciso diverse persone, anche sparando. Per alcuni omicidi, il boss sta scontando oggi l'ergastolo agli arresti domiciliari, concessi in ragione della sua condizione di infermità. Domiciliari che, secondo il racconto di Oksana Berman, non gli impediscono di mantenere inalterata la sua influenza criminale e soprattutto i suoi rapporti col clan Mancuso, da Vibo Valencia per la CINUS24. E proviene proprio da Mileto, l'ex terrorista, già esponente di primo piano dell'Andrangheta, accusato dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia. Sentiamo. Francesco Donofrio, ex militante di prima linea, formazione terroristica di estrema sinistra. Dissociatosi dalla lotta armata nel 1987, contestualmente però uomo d'azione dell'Andrangheta. Lui, che è partito da Mileto nel Vibonese, contribuì a radicare la metastasi in Piemonte. Anche Donofrio, oggi 62 anni a piede libero, avrebbe fatto parte del gruppo che, agli ordini del boss Domenico Belfiore, pianificò ed eseguì l'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, consumato il 26 giugno del 1983. A tirare in ballo l'ex terrorista Vibonese, già imbischiato in diverse inchieste antimafia, è oggi un giovane pentito, Domenico Agresta, già detenuto senza soluzioni di continuità da nove anni. Le sue dichiarazioni sono state acquisite al processo che vede imputato Rocco Schirripa, considerato uno degli esecutori materiali del delitto Caccia. Agresta avrebbe appreso del coinvolgimento dell'ex militante di prima linea nel 2012, nel corso di una conversazione in carcere con il padre ed un altro andranghetista. Condannato in primo grado a Torino a quattro anni e due mesi per armi, Donofrio attende la Cassazione per la condanna rimediata in appello a nove anni, nell'ambito del maxiprocesso Minotauro, il più importante procedimento mai istruito, contro le cosche calabresi in Piemonte e, al contempo, in attesa di giudizio, nell'ambito di un altro processo per estorsione scaturito dalla maxioperazione, denominata Big Bang, da Vibo Valencia, per la CNews24. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla cronaca giudiziaria. Andiamo a Catanzaro, dove questa mattina è stato inaugurato l'anno giudiziario della Corte dei Conti. La conferenza stampa del procuratore regionale Rossella Scerbo ha preceduto la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti a Catanzaro, con la relazione del presidente facente funzioni Anna Bombino. Nel merino della Corte dei Conti diverse fattispecie di danno in molteplici campi della pubblica amministrazione, ma preoccupa la rottura del patto di legalità, elemento di coesione di ogni società civile. La corruzione è ampiamente diffusa in Calabria. Non si parla solo di riferimento all'azione di denaro, ma proprio come rottura del patto di legalità. Quando si parla, per esempio, di sanità, non si può pensare che non è solo una questione di dispersione del patrimonio pubblico, ma anche una questione di tutela del diritto della salute. Per quanto riguarda i contributi comunitari, sono state riscontrate numerosissime violazioni di legge. Noi abbiamo fatto una citazione solo quest'anno per 69 milioni di euro. Abbiamo fatto anche dei sequestri conservativi, su fondi europei, ma anche su fondi nazionali, anche nel settore dell'agricoltura. Rispetto all'anno precedente, qualcosa si è mosso, abbiamo avuto delle denunce importanti da parte della Regione. L'inversione di tendenza, però, in generale, non c'è stata. Devo sottolineare che quello della denuncia è un obbligo, è stato ribadito anche dal nostro codice nuovo. Pervengono invece moltissime denunce da parte dei privati, cittadini stanchi. E credo che si debba pensare intanto al rafforzamento di controlli sostanziali, non veramente cartolari, dei meccanismi dell'erogazione di questi contributi. L'azione repressiva deve coesistere anche con un'azione preventiva. Rossella Galati per la CNews 24. E da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, dove nella serata di ieri un poliziotto eroe ha salvato la vita di una bambina. Ci racconta i dettagli. Salvatore Bruno. La polizia come missione, la medicina come passione. Giancarlo Pullano, agente della squadra volante della questura di Cosenza, è un medico in divisa che per scelta ha continuato ad operare nelle strade. Nel tempo libero si dedica al volontariato con la Croce Rossa. Un angelo lo ha spedito ieri sera in una traversa di Vieropiria insieme ad un collega. Qui si è casualmente imbattuto in un uomo in stato di agitazione, con in braccio una bimba, con evidenti difficoltà respiratorie. Pullano si è reso conto immediatamente della gravità della situazione della piccolina, in preda a convulsioni da febbre alta e divenuta cianotica, e si è prodigato per effettuare le manovre necessarie ad agevolarne la respirazione. Subito dopo gli agenti l'hanno accompagnata d'urgenza con il proprio veicolo all'ospedale dell'Annunziata. Durante il tragitto il poliziotto medico ha continuato a praticare le manovre di primo soccorso, consentendo alla bambina di riprendere a respirare regolarmente. Giunta al pronto soccorso, la piccola, tre anni, ormai fuori pericolo, sottoposta a visita medica, è stata trattenuta per accertamenti nel reparto di pediatria. La competenza e la tempestività dimostrata dagli agenti di polizia è stata riconosciuta dai medici dell'ospedale e dai genitori della bimba, che hanno rivolto sentite parole di profonda gratitudine nei loro confronti. Era importante intervenire subito, cercando con queste manovre di porla in sicurezza e quindi farla giungere in condizioni migliori in ospedale, dove è stata presa in consegna dai sanitari. Salvatore Bruno per la CNews24 E la politica ci porta ora all'interno del Partito Democratico calabrese, tra richiami all'unità e venti di scissione. Facciamo il punto con Riccardo Tripepi. Lunedì si riunisce il gruppo regionale del PD a Palazzo Campanella, alla presenza del segretario regionale Ernesto Magorno. All'ordine del giorno la situazione politica nazionale e regionale, ovvero capire cosa cambierà in Calabria dopo l'Assemblea nazionale del PD e l'avvio delle grandi manovre per il Congresso, che potrebbero essere precedute da una scissione data ormai per imminente. Anche Roberto Speranza, che pure si era candidato al Congresso, sembra aver assimilato la rottura come non rimarginabile. Le indicazioni di Magorno però sono chiare e arrivate già con qualche giorno di anticipo. È il tempo delle responsabilità. Faccio mie le parole al segretario nazionale del PD Matteo Renzi, ha detto Magorno, sull'urgenza di mettere da parte all'interno del partito posizioni oltransiste e tentazioni di spaccature. Stessa posizione assunta da un altro renzista doc, come il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, che ha firmato l'appello degli amministratori contro la scissione. Ed il resto in Calabria, la scissione non sembra avere un grande appeal. Al momento con la minoranza andrebbero via i soli Nico Stumpo e Doris Lomoro. Il governatore Oliverio, insieme ai suoi, dai deputati Bossio e Censore, fino ai consiglieri Romeo e Mirabello, ha dato ormai il via libera ad un'area autonoma, che però giocherà la sua partita dentro il PD e dentro il congresso. Così come dentro il partito rimarrebbero i consiglieri regionali non allineati, come Cuccione, vicino alle posizioni di Orlando, Bevacqua, vicino a Franceschini, o Enzo Ciconte, che rimane battitore libero. In ogni caso, un bel mix, difficile da ricomporre a sintesi. Riccardo Tripepi, per la CNews24. Ed ora cambiamo decisamente argomento, una visita speciale nei nostri studi, quella di alcuni ragazzi down che lavorano alla solida al birra di Catanzaro. Un pomeriggio splendido per noi, speriamo anche per loro che vi vogliamo raccontare così. Ti piacerebbe leggere le notizie? Sì. Mandare i servizi? Sì. Mi chiamo Alessandra Audicino. Buona serata. Arrivederci. Tieni presente che le tuoi ospiti sono Valentina e Federica, mentre Alessandra è la tua partner in studio. Va bene. Ok? Fai così. Va? E compadre. Ok? A posto. Vedete come inizia la scuola. Ciao a tutti da Docs for Sport. Saverio Calacciolo per la CNews24. Con queste bellissime immagini torniamo in studio per andare avanti con il nostro telegiornale. Si chiama L'eredità di Falcone e Borsellino. È l'iniziativa promossa dall'Ansa a Catanzaro. Momenti inediti di vita quotidiana. L'infanzia, la prima comunione, il matrimonio, fino all'impegno costante per cambiare la società. Scatti di vita di due uomini che hanno lasciato il segno. Raccolti nella mostra fotografica itinerante l'eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due eroi della legalità a cui l'Ansa, l'Agenzia Nazionale di Stampa, ha dedicato l'iniziativa realizzata per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che è stata inaugurata all'Istituto Scalfaro di Catanzaro. Credo che sia utile, utile per ricordare, utile per educare e per far capire alle giovani generazioni cosa significa realmente il vero impegno contro la criminalità organizzata e contro la mafia in particolare. È un'eredità morale e civile importante che i due magistrati hanno lasciato. Gli uomini passano ma le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Così diceva Falcone ed è importante che i giovani conoscano ciò che è stato per continuare a giocare quella difficile partita per sconfiggere la criminalità e rendere migliore la società. La nostra società in questo momento è parecchio imbarbarita per tanti aspetti, dalla presenza di una criminalità organizzata devastante, ma anche dall'assenza di alcuni valori che per tanto tempo hanno guidato le nostre vite. Ora è come se ci fosse una sorta di regressione e tutto diventa scontro, tutto diventa violenza. Queste due figure sono morte violentamente, però catarticamente ci danno un messaggio di pace. Rossella Galati per la Cineus 24. E parliamo ora di imprese invece. Rocco Colacchio, giovane patron di una delle imprese calabresi che più si è affermata nel corso degli ultimi anni, il nuovo presidente di Confindustria Vibo. Lo ha intervistato per noi Stefano Mandarano. Sono ormai un decennio che lavoro qui in Confindustria per dare il meglio nella nostra provincia, quindi diversi incarichi anche a livello nazionale a rappresentare alcuni settori della nostra provincia. Adesso ho un impegno per prendere tutti i settori a braccio per poter portare avanti le cose positive, mandare avanti dei messaggi positivi, perché nella nostra provincia si parla solo di problematiche, di cronaca e di tant'altro. Quindi vorremmo fare di più. E quindi noi industriali ci vogliamo impegnare per dare l'ustre alla nostra provincia. È importante dialogare con le istituzioni del territorio, con la politica del territorio, per poter risolvere le problematiche. E quando c'è bisogno anche arrabbiarsi con la politica del territorio. Quindi le prime cose che faremo come Confindustria, sono le mie preferenze, è quello di parlare con i politici e con le istituzioni, la prefettura, per risolvere le problematiche, ma per prenderle di petto queste problematiche. Confindustria deve avere un ruolo principale per lo sviluppo. In questo momento è l'associazione dove ha maggiore fattorato, maggiore azienda. Quindi Confindustria deve essere la prima a portare avanti quelle che sono le necessità del territorio. Assieme alle altre associazioni, quindi noi assieme agli altri, dobbiamo condividere un percorso per lo sviluppo. Si dicono sempre queste cose, tutti i presidenti, però io mi impegnerò a farlo con forza e con determinazione, come ho fatto anche a livello nazionale, anche nella stazione elementare di Confindustria Calabria. Stefano Mandarano per la CNews24. Una pausa didattica nel corso della quale sono state accolte importanti autorità istituzionali. è quella che ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Vespucci di Vibo Marina. Ci racconta com'è andata Cristina Iannuzzi. Per una settimana hanno chiuso i libri, niente lezioni canoniche, niente compiti, niente interrogazioni. Una pausa didattica per aprirsi al confronto, scambiarsi le testimonianze, anche quelle più forti come la traversata in mare. Un'esperienza vissuta al loro malgrado da alcuni migranti, poco più che bambini, gli stessi che oggi frequentano l'Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina. La scuola, diretta da Maria Salvia, si conferma un chiaro esempio di integrazione. A testimoniarlo la presenza dell'ex procuratore di Vibo Mario Spagnuolo, oggi a capo degli uffici di Cosenza. Nelle aule trasformate in laboratori, anche l'assessore regionale all'istruzione Federica Roccisano. L'integrazione che qui in questa scuola c'è ed esiste, grazie all'azione che ha fatto la dirigente e grazie all'inserimento dei minori straniere non accompagnati, vedo che li ha arricchito davvero tantissimo. Un modello che a questo punto si può replicare nelle altre scuole. È la rete, è stare insieme, è procurarsi alleanze, perché non è semplicissimo integrare ragazzi e ragazze che hanno fatto un percorso dolorosissimo per arrivare qui. L'obiettivo che vogliamo è quello di farli sentire veramente uguali, uguali a noi, perché così sono. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E siamo ora allo sport, superlega la Tonno Callipo, chiamata ad una grande impresa per centrare i play-off. Alessio Bonpasso. 3, 9, 8. Non è un prefisso telefonico, non è una sequenza matematica e neppure una nuova successione di Fibonacci. Sono i numeri fissati nella mente dei giocatori e staff tecnico della Tonno Callipo Vibo Valencia. Tre partite, tre squadre, nove punti in palio e quell'ottavo posto che permette di proseguire l'avventura in campionato sognando lo scudetto. Obiettivo fissato in agenda ad inizio stagione dai Vibonesi, ma anche da Latina e Ravenna. Le due formazioni che, con un colpo di coda nelle ultime partite, hanno azzerato il gap nei confronti dei giallorossi, mettendo a rischio i play-off a Vibo Valencia. Cosciano e compagni si giocheranno tutto nelle prossime tre partite, con il vantaggio del miglior rapporto tra sfide vinte e perse nei confronti delle due rivali. Un asso nella manica da calare nel caso in cui le tre formazioni si trovassero al termine della regular season a parità di punti. Come adesso, praticamente. Il destino, quindi, è tutto nelle mani dei ragazzi di Coach Cantor, che avranno la possibilità di ribadire la superiorità negli scontri diretti nelle ultime due partite di campionato. Prima, però, c'è Sora, che contro Vibo trova sempre qualcosa in più da mettere in campo. Tre, nove, otto, per mettere in tasca le finali tricolore e ritrovarsi di fronte super campione di Civitanova. In fondo, nello sport mai dire mai, ma questa è un'altra storia alle sue buon passo per la CINUS24. E passiamo al basket trasferta per la Viola a Reggio Calabria, che domenica renderà visita all'Ostico Rieti. Maria Chiara Sigillò. Ancora nove partite per centrare l'obiettivo salvezza. La Viola, quindi, riparte dal mercato, aperto più che mai. Nuovi movimenti, infatti, nella città e in riva allo stretto. Uno scambio tattico tra la Viola e Ferentino. Via Radice arriva Marcus Gilbert, americano, classe 1993, esterno. Gilbert affiancherà i compagni di un reparto già abbondante. Radice, arrivato a Reggio nella scorsa sessione estiva di mercato, concluderà invece la stagione indossando la casa a Camaranto nel Lazio. Dunque un'altra partenza, un altro arrivo. Ennesima mossa per risollevare le sorti di una stagione ormai in discesa totale. Nove partite alla fine, nove finali da disputare per il Nero Arancio. Cinque in trasferta, quattro in casa. Si parte proprio dalla trasferta di Rieti. Una partita da non sottovalutare, quella contro la squadra Pontina. Rieti, reducente tre importanti vittorie, già all'andata punì Nero Arancio e spugnando il palacalafiore. Le Amaranto Celesti, ora se lunghezza dei calabresi, cercheranno di mantenere la scede risultati positivi e blindare la dodicesima posizione in classifica. Casella che permetterebbe così la permanenza diretta in Serie A2. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. E questo era l'ultimo servizio di questa sera, non ci sono altri aggiornamenti. Grazie come sempre per la cortese attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. Buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.